Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Forse da qualche istante a te tu mi dirai Che quel bro di un cuore che proviò Un sentimento sincero Non la vuole verà Grazie! Grazie! Ma qui questa altra gruppa, qui questa Potete sentire anche voi Se c'è quello che un giorno No, 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 no Stanno piano lo faccio Buongiorno 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 Forse da qualche istante a te tu mi dirai Buongiorno 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 Grazie